Vedi, Dio creò il mare e disse che bel lavoro che ho fatto, che bello, poi creò il sole e disse che bello, bello il sole, poi creò il regno animale, disse bello, bello, il regno animale mi piace, poi creò i fiori, creò gli alberi, disse bello, fantastico, poi creò l'uomo, disse bello, si complimentò con lui stesso, e la donna? Eh sì, poi creò la donna, e che disse? Vabbè, disse, vabbè, si truccherà, voglio dire, si truccherà, non è che potremmo andare da così. Questa è la relazione che mi avete chiesto, la vedete, l'ho fatto un po' in fretta, mancano le virgole, vedi, se le aggiungete voi. Sì, 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 allora, quindi va a giungere, diciamo, le virgole, solo le virgole. Fai una cosa, la prossima volta nella relazione, metti solamente le virgole, le virgole, le parole poi le aggiungo, eh, giù ce ne fanno, eh, c'è schifo, com'aggia. Madonna, disgraziato, hai sempre fatto perché l'accidente mi hai fatto prendere, disgraziato pizzolento, non potevi almeno suonare. E che ne sace che ti piace anche la musica, signora? Viene domani che ti faccio trovare pure il cd. E un cd da mamma ti vado a far chiedere, l'acqua. Caro? Sì? Che ne diresti di andare ad innaffiare il giardino? Ma se sta piovendo a dirotto... Quante storie. Metti l'impermeabile. Cara? Sì? Mothaf***a. A su! A su! Papà, papà, no, papà, non stavamo facendo... Non c'è bisogno, non c'è bisogno, sia calmo, dottore. Lei mi deve dire che cosa stava facendo con mia figlia. Niente, si deve fidare, non è che stavo... Fidare? Mi dica la verità! Che cosa stavo facendo con mia figlia? Non si fida, non lo so. Mi dica la verità! Non stavo facendo niente, stavo... Chiedevo, diciamo, se volevo una caramella. Non menta! No, che menta? Non mi piace manca a me la menta. Questa è la liquirizia, non le uso. Che non la menta?